ciao a tutti sono candida benvenuti anche oggi sul mio canale in questo video voglio realizzare dei porta tovaglioli per abbellire la nostra tavola natalizia dunque per fare ciò utilizzerò la stone paper stone paper materiale di stamperia ho già usato in altri video che trovate sul mio canale e voglio utilizzarla perché perché a differenza di una di una carta perché avrei potuto anche utilizzare della semplice carta più spessa però questa non si strappa si può dipingere si può cucire comunque ha una resa decisamente migliore e visto che i porta tovaglioli non voglio fare dei porta tovaglioli usa e getta ma voglio voglio fare in modo che 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 li possa usare anche negli anni a venire utilizzo la stone paper perché mi dà questa questa possibilità e questa sicurezza quindi la base sarà per fare la mia stella di natale che andrà ad addobbare il portato vagliolo fatta sulla stone paper per realizzarla cosa faccio allora voglio utilizzare questa fustella che ormai l'avete vista in tutte le salse perché come vi ho già detto a me piace tantissimo e vi ricordo che tutto il materiale che sto utilizzando lo trovate nel link nella descrizione del video nella descrizione sotto il video trovate il link ai prodotti che utilizzo quindi utilizzerò a questa fustella e allora cosa vado a fare nello specifico dunque ho già aperto la mia fustella vado a recuperare un pezzo di stone paper che me la ricopre completamente quindi direi che ci siamo così ok e cosa voglio fare voglio ricoprire la mia stone paper in questo caso non la voglio colorare cosa che potrei fare perché vi ho detto si può veramente fare di tutto come se fosse una tela potete potete gestirla come volete ma io in questo caso voglio voglio utilizzare dei delle pagine di un libro vecchio recuperato e inutilizzabile perché aveva delle pagine strappate e mancanti e quindi io lo sto utilizzando per fare questi questi miei lavoretti perché veramente un peccato utilizzare delle pagine di libro se il libro non è veramente da buttare per fare queste cose qui e allora vado a fare che vado ad attaccare dei pezzi di carta in questo modo sulla mia stone paper quindi con della colla vado ad attaccare i miei pezzi di carta in questo modo qui ricoprendo tutta la superficie una volta finita questa operazione vado ad asciugare con il fondo una volta asciugata la mia carta di libro incollata sulla stone paper prima di andare a fustellarla con la stella di natale voglio fare ancora un'operazione utilizzerò questi penarelli della fabrel che sono i big brush pens trovati anche questi nei prodotti da me utilizzati che sono dei penarelli eccezionali perché hanno un po di caratteristiche particolari e cioè che una volta asciutti diventano l'inchiosso diventa permanente e quindi a differenza per esempio del distress che poi se vanno sopra delle gocce d'acqua si rimane sempre si macchia questo con questo non succede infatti utilizzo questi anche proprio per timbrare e passo il pennarello sui tamponi forse mi avrete sicuramente visto farlo in qualcuno dei miei video e vado a timbrare con questi colori e una volta asciutti i timbri rimangono permanenti e quindi sono favolosi ma poi la particolarità che hanno è che se vengono passati su una superficie come adesso in questo caso dove ho passato della colla o comunque della vernice che rende il supporto lucido cioè più che lucido diciamo liscio come funziona che una volta che voi io adesso andrò a marcare i punti in cui ho accavallato la carta quindi se voi mettete questo pennarello e poi con il dito lo passate praticamente lo potete sfumare direttamente e quindi è veramente comodo in un attimo si si possono fare delle cose carine adesso qua sulla carta viene si viene messo meno in evidenza ma comunque perché ci sono le scritte quindi si nota meno però è una cosa che vedete io adesso lo sto passando ma poi basta che con il dito nostro fino praticamente lui perde giusto colore per permettermi di di creare questa sfumatura quindi in frettissima senza avere pennelli acrilici piuttosto che acqua eccetera possiamo fare un lavoro di questo tipo e quindi voglio mettere diciamo un pochino in evidenza le parti in cui ho sovrapposto la mia carta di libro in questo modo qui quindi vado a farlo dappertutto adesso vedete lo sto lo sto anche un po di più evidenziando così ok direi che basta così quindi vedete l'effetto è questo e adesso vado a fustellare con la mia fustella delle stelle di natale quindi mettiamo la nostra la nostra stone paper qua vedete le mie come si chiamano lastre di taglio che sono ben ben distrutte ma funzionano ancora quindi vanno benissimo in questo modo ho la mia stella di natale eccola qui vedete adesso l'ho voluta marcare perché comunque rimane una cosina così delicata perché adesso si trova un po agli punti sparsi il mio colore e vado a fare ancora una cosa con il pennarello che avevo già messo via ok vado ancora un attimino così giusto a ripassare qualche bordo non tutti è solo alcuni vedete che così vedete che poi passo il dito e rimane questo effetto così sfumato dove magari ce n'è meno tipo qui facciamo così ok guardate questi pennarelli sono veramente veramente eccezionali io ho fatto tantissimi lavori con questi pennarelli qui perché sono proprio bellini ok direi che basta così così rimane rimane fine come come discorso ora potremmo ancora fare una cosa e cioè spruzzarli con un po di colore mettiamo sotto un foglio di carta così allora mettiamo un po di bianco così acqua e andiamo un po a sporcare le nostre stelle di natale la nostra stella di natale in questo modo qua sporcata la stella con gli spruzzi di acrilico bianco andiamo nuovamente ad asciugare una volta asciugate le fustelle con questo e l'osso che utilizzo nei miei lavori di scrabbooking vado a lavorare un po sulla parte esterna i miei petali in modo da dare tridimensionalità in questo modo e le facciamo tutte adesso andiamo a montare la nostra stella allora per montare la stella di natale però io utilizzerò anche la mia garza da inserire tra uno strato e l'altro in questo modo qui taglio tre pezzi diciamo di grandezze diverse da uno più grande ad uno all'ultimo un pochino più piccolo così ok e cosa vado a fare vado a allargarla bene ad allargarla bene così in modo da da creare spessore e movimento nella mia stella quindi prima di andare ad inserire la seconda fustella nel mezzo vedete in questo modo vado ad inserire in maniera irregolare la mia garza nello stesso modo procediamo per gli altri strati ok Per completare la mia stella inseriamo al centro della colla trasparente, in questo modo qui, e ora con il mio attrezzino per prendere le paillettes in maniera semplicissima, vado così ad inserire un po' di paillettes al centro per dare luce in questo modo qui. Ne metto ancora una, così, in questo modo, giusto per dare un po' di luce. Ora, per la base del nostro portatovagliolo utilizzo del nastro di juta. Facciamo una dimensione che possa andar bene per il nostro tovagliolo, io l'avevo già puntata ma chiaramente non la trovo più, ma poco male. Bene, la rifacciamo, quindi supponiamo una cosa del genere, così, quindi tagliamo in questo punto qui, ok. Prima di andarlo a chiudere voglio fare ancora una cosa, allora voglio prendere i miei due nastrini che avete visto utilizzare in questo periodo, che sono il washi tape glitterato, che ho usato un sacco e che mi piace un sacco, e il mio pizzo adesivo, che metterò sotto in questo modo. Così, abbelliamo anche la parte, la base del nostro portatovagliolo. C'era un pezzettino che ho tagliato, vediamo, eccoci qua, così. Lo sovrappongo un pochino, così. Qui, aspettate perché sia un po' rovinato, facciamo così, ok. Ora vado a chiudere con la colla a caldo, così. Vado a mettere anche due punti qua sul bordino, sia da una parte che dall'altra, così rimane più fermo, ok. In questo modo. E ora sul frontale andiamo ad incollare la nostra stella di Natale. La centriamo, così. Adesso non si erano ancora asciugati bene, non si era ancora asciugata bene la colla al centro, quindi ho fatto un po' un accello. Vabbè, ci sta. Quando si fanno i lavori così veloci, voi prendetevi il tempo che necessita il tutto. e questo è il mio portatovagliolo. Avete visto, semplicissimo, ma comunque ad effetto. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Questo è veramente un lavorettino semplice, semplice dell'ultimo minuto, ma potete farlo tranquillamente con il materiale che avete in casa. Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!